Ben ritrovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. In A1 verso Bologna troviamo code a tratti tra Firenze Scandici e il BV A1 Varianti. Coda in uscita valdichiana provenendo da Firenze. In A1 Variante si viaggia rallentati per traffico tra il BV A1 Variante e Aglio in direzione Roma. In A12 in viaggio verso sud, code a tratti tra il BV A12 A15 e Massa. Coda per traffico intenso verso Rosignano a Rosignano Barriera. Per un guasto sulla linea i treni tra Signa e Montelupo subiranno ritardi e variazioni. Altre info sui nostri canali social. Lavori di Firenze Smart in corso a Firenze in Piazza delle Cure. Possibili disagi alla circolazione. Dal 24 luglio lavori Publiacqua in via Bolognese a Firenze. Previste chiusure e percorsi alternativi. Termine dei lavori 18 agosto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Altre info sui nostri canali social. Buon viaggio!